buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 14 novembre 2023 sono le 7 quindi possiamo iniziare la nostra trasmissione dando un'occhiata ai giornali come sempre il resto del carlino e il corriere adriatico sulle pagine locali ma intanto procediamo con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo di oggi è san lorenzo otul arcivescovo di dublino che visse nel dodicesimo secolo è un personaggio questo che appartiene alla storia irlandese a tutto tondo un personaggio che recitò che recitò un ruolo importante sia a livello religioso ma anche politico e sociale tutto questo per il benessere del suo popolo e fu molto apprezzato fu molto apprezzato in vita e soprattutto anche dopo morte ai quei fedeli per cui i fedeli hanno una grande venerazione per questo santo san lorenzo otul ed ora vediamo le previsioni del tempo permane un tempo non dico buono ma accettabile infatti c'è un campo di alte pressioni che abbraccia tutta l'area della nostra regione garantendo tempo stabile ed assolato un po dappertutto in serata ci saranno un po di nubi in aumento i venti sulle coste ispireranno da ovest e sud ovest così come nell'entroterra le temperature da 9 gradi per quanto riguarda la minima si è alzata leggermente rispetto a ieri a 20 gradi 20 gradi la massima nelle ore più calde della giornata quindi siamo ancora in un periodo di caldo accettabile anche se qualcuno ha cominciato ad accendere il riscaldamento all'interno delle abitazioni perché di sera fa veramente freddo insomma più che fresco e allora apriamo il giornale abbiamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano ed ecco l'articolo di apertura si parla del teatro romano si parla del teatro romano evidenziando l'attesa della città innanzitutto l'attesa della città per l'apertura di questo monumento che molti vorrebbero visitare vorrebbero vedere di persona oltre che nelle fotografie ma da un punto di vista particolare cioè dal punto di vista dei condomini e di coloro che abitano appunto nel limite dell'area dove è stato scoperto il teatro romano che altro non è che il cortile di un condominio di un caseggiato ebbene i lavori per la messa in sicurezza dell'area hanno già procurato danni al condominio perché sono entrati dei camion pesanti sono entrati degli dei mezzi di carattere tecnico che per quanto riguarda l'edilizia e certo le vibrazioni e poi qualche struttura che non è stata ben oculata ben calcolata diciamo dall'autista ha creato dei danni ebbene tutta una serie di esigenze da parte dei condomini dell'area del teatro romano era stata già presentata all'amministrazione comunale e da tempo gli stessi condomini richiedono un incontro al comune in realtà questo incontro non c'è stato ecco perché ora tornano la carica evidenziano appunto i loro problemi e chiedono che i prossimi lavori di messa in sicurezza ma anche di ristrutturazione dell'area per consentirne la fruibilità pubblica vengano fatte senza danneggiare nella privacy nella vita sociale nella vita di coloro che abitano appunto all'interno del caseggiato che circonda l'area questa è l'area dove c'è il teatro romano in questo punto questa è l'area in questo punto abbiamo la cavea del teatro coperta da una copertura che dovrebbe essere sostituita da una copertura in lamiera ora è in una fibra di plastica diciamo così pensate una copertura in lamiera quando piove il chiasso che fa insomma e poi dovrebbe essere alzata e quindi coprire ancora la visibilità di tutto il circondario quando uno si affaccia alla finestra e poi c'è l'entrata del pubblico c'è la demolizione di un edificio quello che divide l'area dalla proprietà di montanari insomma ci sono diverse cose da fare prima di rendere veramente fruibile quest'area tutta la città e qua vediamo il portavoce dei residenti ingegner salvatore russo che indica appunto i punti critici della della superficie da ristrutturare vediamo anche questo articolo a fondo pagina una presa di posizione degli ambientalisti che obiettano alla realizzazione della nuova strada nel nuovo complanare dell'adriatica sud in quanto procurerebbe grandi danni all'ambiente ed è l'upus in fabula che evidenzia come per realizzare questa nuova arteria dovrebbero essere asfaltati nove ettari di terreni agricoli e probabilmente abbattere centinaia di alberi l'opera poi favorirà l'aumento del traffico automobilistico e delle emissioni di gas serra mentre l'impermeabilizzazione del suolo ridurrà la capacità di assorbimento della co2 questi un po tutti gli effetti tutti no in parte degli effetti che verranno prodotti dalla realizzazione di questa arteria per cui l'upus in fabula dice invece di costruire una nuova strada cerchiamo di ridurre la velocità fare piste ciclabili piste protette per utilizzare le strade che ci sono attualmente senza farne delle nuove secondo sempre gli ambientalisti ed ora vediamo invece quello che accadrà a natale si alza il sipario su 40 giorni di festa il natale a fano avrà il ritmo del jazz ebbene ieri c'è stata una conferenza stampa convocata dall'amministrazione comunale nella sala della concordia del palazzo municipale in cui il sindaco l'assessore agli eventi etienne lucarelli e altri personaggi hanno evidenziato il programma di natale del in modo preciso prima è stato fatto nei giorni scorsi un programma di massima di tutte le festività dalla accensione dell'albero fino alla festa della befana ebbene con questa iniziativa invece si accenta l'attenzione proprio sul natale e sarà un natale caloroso non dal punto di vista del caldo ma caloroso dal punto di vista dell'atmosfera delle luci della concordia che dovrebbe governare un po i rapporti tra tutti i cittadini quali sono le iniziative che sono state presentate ebbene al pincio ci saranno i mercatini in piazza 20 settembre gli spettacoli all'ex chiesa di san francesco ci saranno e questa è un po la novità di quest'anno ci sarà un allestimento di luci particolarmente bello fondato su luci e colori che la cagliese starche di paolo burroni ha studiato per raccontare la chiesa senza tetto sfruttando i fondi erogati da un bando regionale e vediamo un attimo tanto per renderci l'idea come apparirà la chiesa di san francesco sotto questa suggestiva illuminazione ed ecco qua una foto pubblicata dal resto del carlino guardate che meraviglioso aspetto assume la chiesa di san francesco quando viene illuminata con un effetto scenotecnico anche qui si parla ovviamente del natale il natale fanese punta su san francesco luci proiezioni e musica nell'ex chiesa ebbene la chiesa stessa diventerà spettacolo questa chiesa che i fanesi vedono un po tutti i giorni forse si sono abituati al suo aspetto originario ma in realtà questa chiesa può assumere tante forme tanti aspetti e quindi anche a natale sarà un aspetto tutto particolare tutto da vedere sarà uno spettacolo la chiesa stessa e poi ci sarà il villaggio di natale al pincio e ancora le vie dei presepi con i presepi del pincio il presepe del porto il presepe della trave ma soprattutto il presepe di san marco ebbene il presepio di san marco rappresenta un'attrattiva di per sé potrebbe e è anzi non potrebbe è visibile tutto l'anno dietro prenotazione ma è un'attrattiva di carattere nazionale che si distingue non solo tra i presepi fanesi ma tra i presepi di tutta italia e quest'anno poi ci sono molte novità che saranno presentate proprio pochi giorni prima di natale vediamo le altre notizie siamo a fossombrone anzi a fossombrone sulla via di fossombrone si fanno lavori sul ponte si tratta del ponte sulla strada provinciale mondaviese all'altezza del chilometro 4 a ridosso dello svincolo della superstrada di fossombrone est ebbene qui c'è un cantiere per consolidare il ponte l'investimento è della provincia e ammonta a 160 mila euro il cantiere sarà operativo salvo imprevvisti almeno fino a natale è morto eugenio ordonselli un dirigente dell'apav lucrezia calcinelli lascia la moglie e due figli ebbene in arte gianni storico dirigente della società e promotore della fusione tra i sodalizi di calcinelli e lucrezia è stato veramente un amante dello sport e un beniamino di tutti i tifosi di questa squadra i suoi funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di santa croce a calcinelli passiamo a mondolfo passiamo a mondolfo per il fosso di rio stacciola lavori messi in sicurezza il comune ha partecipato ad un bando per ottenere un finanziamento di oltre un milione di euro un milione 125 mila euro questa è un po' la cifra esatta assegnata al comune di mondolfo per realizzare la messa in sicurezza del fosso di rio stacciola nel quartiere di ponterio il progetto di fattibilità tecnica di questo lavoro è stato ammesso al finanziamento grazie alla partecipazione da parte del comune ad un bando si trattava del bando interventi di messa in sicurezza edifici e territorio del ministero dell'interno e quindi è riuscito il comune a ricevere queste risorse importanti per realizzare questi lavori vediamo anche la pagina di Senigallia dove l'attenzione si sposta anche qui sul Natale ma con la visione dello shopping natalizio perché il Natale con tutte le sue iniziative le sue atmosfere i suoi spettacoli costituisce anche un affare economico rilevante per i commercianti soprattutto due ore di sosta gratuita in centro per favorire lo shopping natalizio è un provenimento dell'amministrazione comunale finalmente si potrà avvicinare al centro non ci saranno problemi speriamo che chi si avvicina non rimanga lì tutta la giornata perché altrimenti occupa il posto che potrebbe essere disponibile con gli altri che ci sia un certo ricambio per favorire la presenza di tante più persone appunto nel centro storico e a questo punto diamo un'occhiata anche all'articolo di apertura di Pesaro dove l'attenzione è stata rivolta a Palazzo Almerici questo palazzo storico di via Mazza che è uno dei palazzi nobiliari più importanti di Pesaro ebbene Palazzo Almerici verrà riqualificato e i lavori dureranno due anni ecco qua il titolo Almerici ora si parte due anni di cantieri e via Mazza sarà ad ostacoli ovviamente perché i cantieri hanno le loro esigenze da domani ci saranno le modifiche della viabilità per la riqualificazione dell'oliveriana la biblioteca che ha sede a Palazzo Almerici i lavori sono legati ai finanziamenti del PNRR e dalla prossima settimana arriva la gru che stazionerà sul posto per sei mesi però è un importante lavoro che viene fatto per ridare alla città lo splendore di questo palazzo settecentesco dal quartiere centro il restyling dei giardini della San Giovanni San Giovanni la biblioteca di Pesaro in via Passeri ebbene ha dei giardini molto belli che verranno appunto rivalutati, riqualificati grazie ad un progetto frutto del bilancio partecipato ma si cerca anche l'aiuto dei privati per contribuire alle spese e qui viene evidenziato questo lavoro per l'assegno di inclusione a Pesaro sono in attesa mille settecento famiglie Pandolfi con l'ambito sociale e con l'assessore Luca Pandolfi in affanno per gestire la fase di transazione ebbene si tratta di circa mille settecento famiglie indigenti pari a un 42% dei 4.061 detentori iniziali con al loro interno un minore, un disabile o un over 60 che mantengono il reddito di cittadinanza ebbene lo mantengono fino a dicembre poi dal primo di gennaio potranno ricevere il nuovo assegno di inclusione la somma non supera i mille cinquecento euro scusate ho sbagliato la somma non supera i cinquecento euro mi ha tratto in inganno la i che sembrava un uno non supera i cinquecento euro un traghettamento complesso in una vera e propria palude di incognite e di addempimenti per quanto riguarda questo trasferimento che non è ben chiaro dal punto di vista procedurale vediamo ora le altre notizie dalla baby gang ai colpi in solitaria prime condanne in carcere un sedicenne si comincia a fare sul serio con le bande dei ragazzini che travalicano la devianza e superano ed entrano nella delinquenza due anni e quattro mesi per una rapina a oltremare deve rispondere questo sedicenne pure di un assalto ad un benzinaio pensate è uscito dalla comunità dove era stato indirizzato ai fini di un percorso rieducativo ma non pago ha continuato a delinquere a perseverare tanto che nell'arco di poco tempo aveva compiuto due rapine e per questi fatti sono arrivati anche le prime pene giudiziarie tutto questo è la parabola di un ragazzino oggi sedicenne ma che era già noto alle forze dell'ordine quando aveva appena 13 anni in quanto componente della baby gang di piazza Redi una piazza che ha furoleggiato e ha scombusolato la vita del quartiere per tanto tempo e poi ancora la cronaca una badante ruba i gioielli della persona che doveva assistere e li sostituisce con della bigiotteria però i parenti della donna si sono accorti di quanto stava accadendo hanno denunciato la donna una parte del bottino è stato recuperato dai compraoro altro bottino invece ancora non era stato venduto quindi tutto è stato restituito alla legittima proprietaria la donna si è pentita e ha chiesto scusa ma ovviamente questo non fa sì che non si prenda la denuncia che gli è stata combinata prende il portafoglio dimenticato condannata ebbene un uomo ha fatto benzina ad un distributore poi ha dimenticato il portafoglio sul supporto del distributore stesso ebbene la donna che è venuta dopo per fare benzina si è appropriata dei soldi il proprietario dice che dentro c'era una cifra ingente 5.000 euro che ovviamente sono spariti però con l'aiuto delle telecamere si è riusciti ad individuare chi si era impossessato del portafoglio ed era appunto la donna che era venuta dopo a fare benzina e quindi anche questa è stata denunciata il fatto ieri il giudice monocratico assolto assolto di qui dunque di qui la denuncia con la donna finita a processo per furto insieme alla figlia rimasta in auto ebbene il giudice ha assolto la figlia per non aver commesso il fatto e ha condannato la donna a 5 mesi e a 200 euro di multa con la pena sospesa Cecilia Papalini figlia del noto imprenditore Papalini di Fano guida ora i giovani di Confindustria un nuovo presidente alla guida appunto di questa associazione di giovani industriali Cecilia Papalini responsabile delle risorse umane della società Papalini S.p.A. di Fano che succede a Davide Broccoli e resterà in carica per il triennio 2023-2026 diventando di diritto anche vicepresidente della Confindustria di Pesaro Urbino quindi una carica prestigiosa appunto per una giovane imprenditrice del nostro territorio e vediamo la pagina di Urbino si parla di urbanistica abbiamo qui la fotografia di Micaele Avitri consigliere regionale del Partito Democratico Vitri sulle norme contestate anche dai professionisti i loro consigli ignorati ebbene anche dal punto di vista politico si dà ampio risalto alle osservazioni che l'Ordine degli Ingegneri ha rivolto alla nuova legge urbanistica che la Giunta regionale Marche si appresta a fare approvare dal Consiglio regionale ci sono delle osservazioni delle critiche in modo particolare per quanto riguarda la riduzione dell'ampliamento prescritto per il piano casa e quindi una urbanistica che rischia di mettere in crisi tutte le aziende perché poi ci sarà meno lavoro e meno possibilità appunto di realizzare nuove costruzioni ed ora passiamo al resto del Carlino abbiamo visto la prima pagina dedicata al Natale fanese con la bella fotografia di San Francesco ed ora vediamo anche le altre notizie caserma dei pompieri la prima pietra nel 2024 ebbene la nuova caserma dei vigili del fuoco che deve essere realizzata a Chiaruccia è in stato progettuale ormai da anni ci sono state delle traversie per l'assegnazione dei lavori la ditta che aveva vinto la gara d'appalto ha preteso più soldi per l'aumento delle materie prime e questo ha un po' sospeso tutto l'iter progettuale che era iniziato ebbene che cosa è accaduto? è accaduto che l'amministrazione comunale ora tornerà di nuovo a mettere a bando la gara per la realizzazione di questa nuova caserma dopo che lo scorso anno la ditta che si era giudicata all'opera citata della Pro Seco SRL aveva chiesto un ritocco di oltre 600 mila euro per l'aumento dei prezzi adesso sembra che la cifra per realizzare questa caserma che è una cifra che mette a disposizione lo Stato dovrà essere aumentata era di 2 milioni e qualcosa quindi bisognerà aumentarla ancora di più per trovare una ditta disposta a realizzare l'opera l'incarico spetta all'amministrazione comunale che ora procederà spero che per i vigili del fuoco che a Fano operano con delle situazioni non certo ideali sia per quanto riguarda l'organico che per quanto riguarda la disponibilità della struttura stessa della caserma stessa che ora si affaccia sulla via Flaminia in via Roma nei pressi del ponte dell'autostrada meritano certamente qualcosa di più e qua vediamo invece una bella foto della chiesa di San Pietro in Valle San Pietro in Valle è da tempo oggetto di un esame da parte della Università di Ancona Politecnico delle Marche per cercare di individuare quali sono le cause della umidità che hanno reso non fruibile l'edificio per tanti tanti anni oltre 30 40 anni 40 anni solo sporadicamente si è potuti entrare in questo bellissimo tempio di arte barocca ebbene sembra che l'origine della umidità secondo lo studio fatto dagli universitari si debba alla presenza di salme nel sotterraneo della chiesa dei morti una volta si seppellivano i morti nell'interno della chiesa e l'ultimo morto l'ultima sepoltura risalirebbe al 1840 quindi secondo i tecnici bisognerebbe togliere queste salme e poi un po' risanare il tutto bisogna anche fare degli altri lavori creare piccoli pozzi drenanti per intercettare l'acqua a monte della chiesa deumidificare gli ambienti sfruttando anche le aperture già presenti e infine creare una intercapedine tra le lastre di marmo per cercare di realizzare un piccolo camera d'aria per fare respirare appunto le murature stesse e sono lavori complessi ora lo studio è giunto al termine bisogna intervenire e speriamo che l'amministrazione comunale lo faccia presto passiamo passiamo a Mondolfo quasi dieci anni dopo l'alluvione si mette in sicurezza il rio Stacciola e questo grazie ad un finanziamento di un milione centoventicinque mila euro dato dal ministero dell'interno bisogna applaudire anche al comune di Mondolfo che è riuscito ad giudicarsi questo bando con un progetto che permette ora la realizzazione dei lavori nel 2014 molte famiglie furono evacuate per l'esondazione del rio di rio stacciola tutto questo verrà fatto a Ponte Rio e poi vediamo Urbino Urbino patrimonio della umidità e festa sia due giorni di celebrazioni sono stati decretati il 14 e 15 dicembre per celebrare i 25 anni dell'iscrizione nel centro storico tra i tesori del mondo ovvero nel patrimonio dell'UNESCO vediamo qui due bellissimi scorci della città di Urbino vediamo il teatro Raffaello e Palazzo Ducale vogliamo far vedere una città viva che lavora anche assieme alle associazioni ha dichiarato l'assessore Cioppi accendiamo la casa della legalità a isola del piano c'è un appello del presidente della provincia Paolini dopo l'iniziativa con una ottantina tra scout e persone intervenute ebbene è stato un gesto significativo quello piantato nell'orto per la memoria delle vittime delle mafie e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione